La media di un intervento al giorno, in linea con i dati degli ultimi anni, ma crescono gli incidenti mortali. 24 le persone che hanno perso la vita nel 2019 durante un'escursione sulle vette lecchesi, 3 nelle ultime 6 settimane. Sono i numeri della diciannovesima delegazione lariana del soccorso alpino, concentrata prevalentemente tra Centro, Alto Lago di Como e Valsassina-Valvarrone. Nel dettaglio le operazioni di soccorso sono state 335 e 343 le persone tratte in salvo. 1.643 volontari impiegati, ritenendo conto che ogni singolo soccorritore può essere impegnato più volte per un totale di 15.534 ore di lavoro. Incidenti dovuti soprattutto a cadute, 33,8%, durante attività di escursionismo, 175 casi, a seguire di alpinismo, con 38 casi, oppure durante la permanenza nel peggio, 19 casi, mentre 18 hanno coinvolto cercatori di funghi. Per quanto riguarda la stazione della Valsassina-Valvarrone, che è la più attiva, i dati sono in linea con l'anno precedente, con un numero totale di interventi pari a 135 e 119 persone soccorse, rispetto ai 115 interventi e alle 125 persone tratte in salvo del 2018. La montagna trae sempre più appassionati, non sempre però adeguatamente preparati ed equipaggiati, sottolinea il soccorso alpino. Studiare il percorso, controllare le previsioni del tempo, utilizzare un'attrezzatura adeguata, un obbligo prima di avventurarsi sulle cime, spiega Alberto Redaelli, responsabile della 19esima delegazione all'Ariana. Raccomandazioni che sono state ripetute ieri durante la giornata Sicuri con la Neve, con decine di appuntamenti in tutta Italia, organizzati in collaborazione con il CAI, che ai piani di Bobbio ha visto la partecipazione di circa 150 persone. Solo un ultimo numero, a livello regionale, gli interventi del soccorso alpino lo scorso anno sono stati 1.259, 74 i morti.